Con il rintocco della mezzanotte, Strada dei Parchi ha ufficialmente riacquisito la gestione delle autostrade A24 e A25, chiudendo così un capitolo durato circa 18 mesi con la gestione provvisoria a opera dell'ANAS. Un importante passaggio che è stato reso possibile grazie al decreto legislativo anticipi recentemente approvato dal Parlamento. Un decreto che ha risolto una lunga disputa legale tra la concessionaria del gruppo Toto e lo Stato. La revoca della concessione autostradale avvenuta nel luglio 2022 aveva dato inizio a una complessa controversia tra la concessionaria e il governo. Il gruppo Toto, che ottenne la concessione attraverso una gara pubblica, aveva contestato la decisione attraverso la presentazione di ricorsi legali. Le motivazioni della revoca sono state poi giudicate infondate, come evidenziato dalle indagini avviate da alcune procure della Repubblica e dalle sentenze dei tribunali dell'Aquila e di Teramo, che hanno assolto i vertici di Strada dei Parchi perché il fatto non sussiste. Il gruppo Toto, con oltre 60 anni di storia, ha affrontato una situazione gestionale senza precedenti nell'ultimo anno e mezzo. La reintegrazione nella concessione, ottenuta grazie al decreto legislativo anticipi, ha consentito a Strada dei Parchi di superare la difficile fase e risolvere positivamente la procedura di concordato preventivo a cui è stata costretta. Con la ripresa della gestione dell'autostrada 24 e 25, Strada dei Parchi cerca di guardare al futuro con l'obiettivo di assicurare massima efficienza e sicurezza delle infrastrutture autostradali nell'interesse di tutti gli utenti.